benvenuti benvenuti cari amici siamo tutti in questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il botone di like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale di telegram andiamo a vedere quello che sta venendo sulle alcoin in questo momento perché fortemente positive a comandare lbl più 16,8% e bitcoin cash col più 9,6% ma oggi focus su pepe e su lung perché ragazzi ci sono importantissime notizie e soprattutto presto potremo vedere uno skyrockets letterale da parte di queste due alcoin per cui andiamo subito a vedere la prima pepe prezzo in questo momento i 7,25 quindi a normalizzare tutto market cap di 284 milioni a fronte di volume in questo momento per 88 milioni quindi aumentano sensibilmente che sono i volumi di pepe più 131 per cento rispetto a ieri e per quanto riguarda ok il twitter la comunità di pepe non è successo niente nel senso che dopo quel famoso hackeraggio subito all'interno gruppo telegram praticamente non ci sono state nuove news ok quindi a questo punto abbiamo visto news però che cosa abbiamo visto stiamo vedendo comunque il numero di holder sta aumentando in questo momento siamo 137 mila 934 quindi molto bene per pepe soprattutto anche in ottica ok prossima burran vi ricordo bainan sotto ritiene il 25 per cento dei token in totale ok ex 7.31 e a seguire tutti le altre proprie andiamo a vedere cosa stanno facendo che questo exchange perché soprattutto bainan so che sta accumulando in questo momento pepe come potete vedere siamo sopra ai 100 trilioni per l'esattezza 106 trilioni in pepe in questo momento mentre ok ex ne detiene circa 33 trilioni in questo momento quindi insieme diciamo vanno a creare una coppiata da 140 trilioni di pepe è veramente qualcosa di pazzesco non penso che che i due exchange andranno ad ampare non perlomeno in breve ma anzi come vedete stanno accumulando probabilmente in ottica prossima burran visto che il prezzo è molto interessante perché andiamo a vedere quello che sta venendo in questo momento su pepe perché abbiamo questo importantissima resistenza 750 abbiamo fatto 770 che sul giornaliero poi respinti e attenzione perché in caso di rottura di 780 andremo presto a vederlo questo ovviamente un weekly secondo me pepe potrebbe tornare a fare skyrocket ovviamente all'interno del gruppo cowboy stiamo costruendo una strategia per cui se anche tu vuoi entrare ti ricordo col gratuita c'è ancora un posto quindi vieni assolutamente dentro che ti aspetto dopodiché andiamo a vedere anche quello che sta venendo su giornaliero perché secondo me è molto più interessante siamo tornati sopra la media a 20 periodi e in questo momento abbiamo da farci a tetto quella 100 e 200 periodi quindi quale potrebbe essere nuovamente il top relativo ribassista ok da parte di pepe potenzialmente anche zona 150 vedremo se pepe avrà la forza ok di andare a rompere per ora sembra essere confermato questo supporto sui 600 per cui cosa direi fortemente positivo ok per quanto riguarda pepe e la sua community andiamo anche a vedere più in particolare su quattro ore vedete come chiaramente questa resistenza dei 750 è stata leggermente violata andando a prendere quella che era la resistenza ai 200 periodi successivamente dei respinti però mi sembra positiva ok l'action in questo momento di pepe quindi nel caso ok di ritorno ai volumi che in questo momento i volumi ci sono io vi dico la verità in questo momento sono bullish su pepe ovviamente chi è dentro il gruppo cowboy sa tutti i movimenti che sto facendo in questo momento ora focus su terreno classic in questo momento prezzo di 6.395 market cap vi ricordo quasi doppia rispetto a quelle di pepe 371 milioni a fronte in volumi in questo momento di 59 milioni però che cosa stiamo assistendo le ultime ore più 204 per cento dei volumi ottimo che per quanto riguarda il terreno classic ovviamente siamo ben lontani rispetto a un anno fa dove luna veramente faceva to the moon ok dir poco stavamo addirittura in dcx veramente una cosa assurda e quello che io mi chiedo potrebbero tornare quei tempi potenzialmente sì ok andremo ora a vederlo ovviamente a livello dei volumi si è lontanissimi perché in questo momento stiamo facendo 60 milioni di volumi inoltre mai di terreno classic relativo si arrivò a un miliardo 20 volte tanto è giusto per darvi termini di paragone però non è impossibile andiamo a vedere anche il numero di luna ok transate in questo momento 16.7 miliardi sul generale che non sono assolutamente pochi numero di lunghe bruciate in questo momento pari a 68 miliardi quindi insomma il barn non sta assortendo l'effetto voluto abbiamo tempo però bisogna parlare assolutamente dopodiché vorrei andare a vedere con voi un'altra notizia secondo me molto interessante che è la seguente quella di terra porto dovrebbe essere presto lanciato il sito che in questo momento è in test e come potete vedere dovrebbe arrivare anche presto il dex di terra luna quindi direi notizia fortemente positiva ovviamente poi è stata approvata anche la proposta 11.785 che prevede che circa l'85% che tra in fees effettuate su lunghe USTC andrà a bruciare letteralmente i lunghe quindi questo potrebbe essere molto positivo dato che la maggior parte dei volumi proprio viene su Binance ora focus su quella cliente in questo momento abbiamo detto 6.398 in questo momento il prezzo siamo sotto a tutte le medie mobili ok quella a 20 periodi ci sta facendo da supporto però guardate qui abbiamo rotto abbiamo rotto questa terreno indiscendente e potrebbe essere iniziato un inverso su terreno classic quello che ci dice di weekly si quindi attenzione potrebbe essere iniziato come avevamo avuto ad esempio un piccolo rally qui dal 12 dicembre 2022 fino al 30 gennaio comunque era stato un barelli quasi un x2 secondo me potremmo ripeterlo zona massima che potremmo raggiungere in brevissimo 8.422 potrebbe essere ok potenzialmente potrebbe essere vorrei mostrarmelo anche più in particolare sul giornaliero abbiamo questa importante media mobile che si sposa più in particolare anche con un'importante resistenza di 11.578 ovviamente vi ricordo che prima abbiamo tantissime resistenze la prima macro a 8.500 come detto la seconda 9.776 la terza 11.578 non penso che in un momento lungo abbia la forza e forse anche la voglia anche di andare al di sopra dopo di che vorrei mostrare anche dove sto trovando io in questo momento lungo lo sto trovando su binks trovi sotto il mio alla fine descrizione avrai 20% di sconto sulle trading fees ovviamente tra virgolette lo sto trovando rialzista quindi vedremo un po' quello che succederà ovviamente non sono nei consigli finanziari nei consigli di trading poi perché proprio lungo potrebbe scherocchettare? allora ieri abbiamo visto questo scherocchett che sta durando da una settimana circa di luna normale lo chiamalo così luna normale a 0.51 vorrei andare a vedere con voi alcuni dati nel senso che il nostro buon amico Dono che dopo Doquon come volete chiamarlo aveva creato luna normale ha una market cap la metà di luna di lung 198 milioni guardate qui i volumi 330 milioni veramente una cosa pazzesca più 34% sul settimanale secondo me parte i fondi poi saranno passati su lung vedremo era già successo una volta poi per quanto riguarda WSTC WSTC ferma anche qui abbiamo un bel supporto a 0.0.07 in questo momento siamo 1.3 comunque il rischio di rendimento anche qui è fortemente interessante anche se al momento la sto considerando e vorrei andare a chiudere con Bitcoin perché domani vi ricordo venerdì vanno a scadere opzioni per 117.000 Bitcoin per un controvalore di 1.1 milioni di Ethereum quindi andremo a vedere quello che succederà vi dico subito il prezzo deve assolutamente stare entro domani sopra i 26.500 dollari questo è quello che ci sta dicendo Panda of Asia Streets sopra i 26.580 ci vuole questa action in questo momento prezzo Bitcoin 26.430 per cui siamo non tantissimo sotto però comunque siamo sotto e potrebbe essere anche interessante andarlo a tradare potenzialmente a leva leva long ovviamente se volete utilizzate Bing X, BitCat, quello che volete ok perché abbiamo questa resistenza sui 26.752 quindi secondo me questo target lo andiamo a prendere vediamo se rompiamo in caso di volume in caso di rottura violenta allora potremmo andare anche a prendere zona dei 27.000 dollari che vi ricordo siamo in un momento a un trend discendente però potrebbe proprio andarci a prendere la punta ok del trend discendente dopodiché qua siamo 1 hour 1 hour ci sembra dire piccolo dip per poi prendere e ripartire e infine ti ricordo anche quello che è il mio libro ok che ho scritto sui meme quindi se anche tu vuoi migliorare quelle che sono le tue conoscenze dell'interno mondo cripto fatti una cultura studia hacker al tempo mi raccomando ma soprattutto se vuoi fare un salto di qualità se vuoi sapere anche quelle che sono le coin o che sto tradando le coin che sto tenendo sotto d'occhio il mio portafoglio conoscere tutto ti ricordo il proprio notizio con la gratuita ok per riconoscere quello che è il protocollo del cripto cowboy e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire il like iscriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista hombre